Questa musica non mi piace più Quella maledetta ci ha fregati Se l'è filata con i diamanti Parlo con Nicola Spardo? Di persona So che ha scattato una fotografia alla signora Watts Vorrei comprarla Mi dispiace signore ma l'ho già venduta La venda a noi, le daremo il doppio di quello che ha chiesto È un'offerta molto generosa Non credo che lei si renda conto con chi ha a che fare signor Bardo Noi sappiamo tutto di lei Sono una donna cattiva, Nicola Ci stai provando con me? Molto cattiva Noi sappiamo Grazie a tutti.